Si chiama Crystal Reynolds Fisher, è una donna che, pensate, è una dipendente di un supermercato in Michigan negli Stati Uniti. Avrebbe denunciato su Facebook del fatto che sarebbe stata licenziata dal suo capo perché, appunto, non avrebbe lavorato. Eppure, la donna, per l'appunto, si trova in una condizione negativa. Infatti, pensate che avrebbe un figlio in fin di vita per colpa di una cellulite infettiva. Ma l'uomo, il capo, il datore di lavoro di Crystal Reynolds Fisher, avrebbe detto alla donna Se non lavori, puoi anche andartene. In barba, o meglio infischiandosene altamente, del fatto che la donna in questione purtroppo ha un figlio gravemente ammalato. La cellulite, vi ricordo, è un'infezione che colpisce il derma epidermide, quindi la pelle, e il tessuto sottostante. I batteri possono penetrare attraverso un'apertura come un taglio dell'incisione a punto di insetto e si può arrivare addirittura in casi più gravi alla sepsi. Insomma, una malattia terribile. Il ragazzino, diciottenne, di nome Jason, si trova ancora in pericolo di vita. I medici pensano addirittura che si possa essere arrivati ad una sepsi, ripeto, da celulite. La mamma, però, sarebbe stata rimproverata, minacciata e addirittura licenziata. Vi ringrazio per l'ascolto, chiedo giustizia apertamente per la povera Crystal Reynolds Fisher. Grazie, un saluto al prossimo video.